E ripartiamo con la sesta edizione dalla Casa del Festival. La rimozione della piaga della fame, la riduzione delle disuguaglianze, la promozione della pace e dell'inclusività per vite prospere in piena sintonia con il pianeta. Un miglioramento riguardo a due goal, il goal 7 sull'energia pulita e il goal 8 sulla crescita economica e l'occupazione. Un sostanziale equilibrio tra altri due goal, il 2 sulla fame e il 12 sulle produzioni e consumo responsabili. Tutti gli altri 13 obiettivi invece hanno dimostrato un peggioramento. Cerchiamo sempre di più di usare il ferro e in particolare di usare il treno rispetto alla gomma e di usare quindi un trasporto collettivo, un trasporto green rispetto a un trasporto privato. Il tema dello sviluppo e della sostenibilità nel risparmio inizia a vedersi. L'Unione Europea, come sapete, è stata una parte integrante del negoziato che hanno portato all'agenda, alla creazione dell'agenda 2030, un'agenda che è applicabile a tutti, non è soltanto un'agenda applicabile ai paesi di sviluppo. L'Unione Europea 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 L'Unione Europea